buongiorno a tutti buongiorno a tutti amici amici i am mr blogger valeriani questo questo è il più brutto video che devo fare da quando ho iniziato a parlare di calcio su la piattaforma web spiegarvi o cercare di spiegare la polveriera lo schifo che siamo diventati è cosa molto difficile e mi meraviglio mi mi incazzo che devo essere io a spiegarvi quello che sta succedendo e non lo faccia gerry cardinale che dovrebbe oggi adesso in questo preciso istante convocare una conferenza stampa e spiegare che cazzo ha in mente di fare dopo la stagione fallimentare che abbiamo appena fatto e proprio di questo voglio parlare perché quando io vi dissi qualcuno deve pagare perché l'inter vince tutto perché l'inter rischia di vincere la champions league la coppa italia la supercoppa italiana e tu non vinci niente era questo alle proprietà americane alle proprietà estere alle proprietà dei fondi ma le proprietà non italiane non gliele fotte un cazzo della storia le proprietà americane i fondi gente come gerry cardinale come come red bird come eliot guardano i risultati e se i risultati fanno schifo si deve pagare chi sbaglia va a casa semplice chiaro e coinciso cioè la stagione fallimentare il mercato osceno il fatto che tu sei in champions league solo perché la juve è penalizzata maldini e massara vanno a casa e se la squadra infuriata si infuriasse con se stessa perché se loro vincevano se loro portavano a casa un trofeo se loro facevano una buona stagione cardinale non cacciava maldini e massara la colpa è vostra quindi invece di rompere il cazzo pensate a vincere le partite perché nel calcio contano i risultati uno scudetto vinto per il suicidio dell'inter non basta perché anche quando abbiamo vinto lo scudetto io chiedevo acquisti io chiedevo di cacciare la fresca chiedevo di comprare e invece quest'anno si è fatto un mercato osceno che non ha dato niente a questa squadra non ha valorizzato il brand non ha reso sul campo non ha portato introiti non ha portato un cazzo quindi chi lo ha fatto deve essere licenziato punto e basta questo è il punto di vista dell'azionista di chi comanda che io sposo in pieno perché io quando dicevo che maldini doveva andare a casa quando dicevo che bisognava fare mercato quando lo stesso paolo maldini ha detto vinciamo tutto quando lo stesso maldini davanti a voi tifosi vi ha venduto fumo dicendo vinciamo la seconda stella quando poi a gennaio ha rincarato la dose di stronzate dicendo vinciamo tutto l'inter sta vincendo tutto paolo e te ne vai giustamente a casa ma ma c'è un ma grosso come la casa se io devo spiegarvi queste cose e non lo fa gerry cardinale non lo fa chi è pagato per farlo la cosa è ancora più grave perché oggi alle 12 a mezzogiorno ancora sappiamo le motivazioni ancora sappiamo la conferenza stampa gerry cardinale ha fatto una scelta forte che fa disgustare e schifare l'intera piazza ma non è stata né argomentata né spiegata né tantomeno è stato spiegato il motivo del licenziamento di paolo maldini e frederick massara non ci ha messo la faccia non ci ha messo la faccia quella che ci sto mettendo io perché io da gennaio che chiedevo l'epurazione del direttivo l'epurazione dell'allenatore che non ci ha mai capito un cazzo che credo non si sa si dimetterà per solidarietà a paolo maldini perché tutto possiamo dire a stefano pioli ma non che sia un uomo come si deve questo io non glielo mai e mai glielo contestato il fatto di essere una persona con le palle di essere una persona per bene di essere un allenatore che gioca a pallone ma il resto non ci ha capito un cazzo dovrebbe andare a casa lui e il suo staff che hanno reso il milan un lazzaretto perenne quando ribadivo che l'emergenza infortunio ogni tre anni è arrivata puntualmente a romperci le palle devono andare a casa quando chi doveva fare mercato ha speso 35 milioni di euro per un berga che non ha fatto un gol ma questo non a fine campionato si era visto subito se Charles de Kedrari era cercato solo da Litz che lottava per retrocedere un motivo ve lo dovete anche spiegare se ti sei presentato con Franks, Adli e Origi che hanno fatto letteralmente schifo ma io non è che lo dico adesso è da gennaio che vomito schifo chiedendo il licenziamento di Maldini io sto con Cardinale e ve lo dico forte è chiaro perché se quelli là non se ne vanno se non si fa mercato se non si fa programmazione se non si ha un progetto serio l'Inter vince il triplete ogni anno quindi chi sta con Maldini con Massara vuole l'Inter tripletata ogni anno è un messaggio quello che do a Gerry Cardinale Gerry se vuoi fare il Milan come l'Atalanta come l'Ajax come l'Arsenal vendi e levati dalle palle perché il Milan non è l'Arsenal l'Ajax e queste società che non vincono un cazzo il Milan non è questo la tua idea la tua azione è anche buona è anche un fondamento di giustizia perché chi ha cannato questa stagione chi è arrivato quinto sul campo perché è arrivato quinto perché se la Juve non è penalizzata noi in Champions non ci siamo e quando gli interisti ci sfottano che è una Champions di cartone ve lo prendete tutto perché purtroppo è la verità la verità fa male ma ce la dobbiamo dire in faccia facciamo letteralmente schifo perché abbiamo fatto una stagione da schifo fatta di approcci di merda cambi a cazzo preparazione o scena e se la squadra è irritata irritata deve essere irritata con se stessa invece che col direttivo perché se non avete vinto un cazzo non è colpa di Gerry Cardinale se non avete vinto un cazzo è colpa vostra che avete permesso siamo pronti e l'Inter ci ha fatto due gol in 20 minuti quindi non siamo una squadra vincente e quindi quello che ho sempre detto hashtag via la rivoluzione via tutti se non siete con un cardinale se non siete di questo progetto quella è la porta cardinale come le proprietà americane non guardano in faccia nessuno vanno portati i risultati perché se noi vincevamo qualcosa se Paolo Maldini vinceva qualcosa se non perdavate l'euro derby a schifo allora avete ragione perché il cardinale non poteva mandare a casa chi aveva portato dei risultati e vi faccio un esempio se l'Inter non vinceva la Coppa Italia se l'Inter non vinceva e metto le corna tutto quello che mi posso toccare se l'Inter non diventava non diventerà si spera non diventi campione d'Europa inzaghi andava a casa se l'Inter non vinceva la Coppa Italia inzaghi andava a casa mettetevi in testa una cosa il calcio di oggi contano i risultati se non porti i risultati se non vinci un cazzo hashtag te ne vai a casa questo ribadisco in chiusura di questo video è forse il più brutto video che faccio da quando ho aperto il canale perché voi non avete idea di quello che ieri sera il mio telefono ha subito è stato quasi letteralmente squagliato di messaggi di richieste di spiegazioni perché cardinale non parla non devo spiegarlo io deve spiegarlo lui o mi pagasse mi assumesse per fare il direttore sportivo al posto di maldini e io sono con lui perché nel calcio vanno portati i risultati perché se paolo maldini se frederick massara portavano un qualcosa portavano una coppa portavano un qualcosa avevano il potere di chiedere a gerry cardinale di cacciare la fresca e di investire ma se non vinci un cazzo e fai una stagione di merda cardinale c'ha ragione voi avreste avrete ragione se l'anno prossimo facciamo schifo di nuovo maldini può alzare il ditino e dire gerry avevo ragione io non mi dovevi licenziare ma purtroppo purtroppo nel calcio contano i risultati noi quest'anno abbiamo fatto uno schifo di stagione siamo arrivati in gemme solo perché la juve è stata penalizzata al netto delle coppe al netto del mercato è stato un fallimento totale se il manifesto del mercato è stato un giocatore che non ha fatto manco mezzo gol cardinale ti manda a casa senza se senza ma e ha tutte le ragioni per farlo però dovrebbe metterci la faccia dovrebbe spiegare dovrebbe parlare assumersi le responsabilità quelle che mi sto assumendo io perché io adesso sto parlando per conto di cardinale io adesso sono gerry cardinale perché io da gennaio che volevo repurazione di paolo maldini di chi è stato presuntuoso sia da calciatore che da dirigente paolo maldini ha tanti pregi quello di non farsi prendere in giro quello di non farsi mettere i piedi in testa quello di non farsi ricattare dai procuratori ma ha un grande difetto che è la presunzione l'aveva da calciatore ed è rimasto come dirigente perché se tu vai dal proprietario e dici devi investire devi cacciare la fresca ma non ammetti le tue cazzate paolo sei giustamente da cacciare perché tu saresti dovuto andare da cardinale e dire presidente io ho sbagliato abbiamo cacato abbiamo fallito ma tu devi cacciare la fresca tu devi cacciare i soldi e mi dai più autonomia più libertà di mercato più budget non posso andare in giro a fare i mercati come morto di fame col piattino senza che tu mi dai gli strumenti per poter vincere abbiamo fallito abbiamo cannato tutti paolo maldini ha avuto la presunzione di dire io fai io voi avete fallito voi mi dovete dare libertà di libertà di manovra e questo il senso dell'esonero di paolo maldini la presunzione di paolo maldini che a settembre ha detto l'obiettivo è la seconda stella e non ha comprato un cazzo a gennaio ha detto vinciamo tutto e quello è stato un atto di presunzione che paolo maldini ha sempre avuto sia da calciatore che adesso da dirigente perché non andare dal proprietario e dire io ho sbagliato abbiamo fallito ma dammi la fresca adesso maldini avrebbe conservato il suo posto ciao a tutti spero di essere stato chiaro ed esaustivo e ribadisco il concetto le proprietà badano ai risultati della storia del blasone del se ne sbatto ciao a tutti